Non state a guardare l'eco-incentivo di 1.500 euro, costa 40.000 euro nuova, io ve la do 19,9 più il passaggio, quindi a 21.000 euro io ve la do finita di tutto. È davvero splendida, splendida, come nuova. E poi ripeto, posso aggiungere due cose Rosy? Sì. Come dico sempre nelle trasmissioni, non guardate cosa costa la macchina, guardate la rata, se il vostro stipendio con la rata è compatibile, da lì si può comprare quello che si vuole. Certo. Venite presso i nostri uffici, ci sediamo, facciamo tutti i calcoli giusti e vedrete che uscite dal cancello con la macchina, lo dico sempre, qua si esce con la vettura.